Oh oh oh, I'm trying to find the reason for going on Oh oh oh, I've been waiting just to lose control Oh oh oh, oh 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 Sapevamo che comunque questo esordio era abbastanza proibitivo perché giocavamo contro veramente una corazzata come la Russia però nonostante ciò non abbiamo espresso una delle nostre migliori partite stiamo crescendo di giorno in giorno anche se oggi abbiamo fatto un leggero passo indietro in quanto a forse un po' di voglia però credo che i ragazzi abbiamo voglia di riscatto e quindi già da questo pomeriggio contro l'Uneria vorremmo appunto riparci comunque sappiamo che è molto difficile il nostro girone ci fornisce due partite che possiamo e dobbiamo far nostre e giocheremo tutto su per quello